Alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa continentale in ulteriore consolidamento. Nella giornata di venerdì, lieve flessione del campo barico sul nord Italia e sul Mar Ligure per l'approssimarsi di un fronte freddo sull'arco alpino. Venerdì 2 gennaio in Toscana cielo sereno con tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo stratiforme dal pomeriggio a partire dalle zone settentrionali. In serata possibili annuvolamenti di tipo basso su Pisano e Livornese. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in ulteriore rialzo, soprattutto le massime in montagna, minime inferiori allo zero nelle pianure dell'interno con diffuse gelate. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia di Lucca. Nella Piana, temperatura minima prevista a meno 3, massima 10 gradi. In Versilia, minima 1, massima 12. In Garfagnana, minima meno 3, massima 9 gradi. Inゲーム rumore, diamante. Tras alterazioni di questoativo. Comune di scuario met統주 a la revisione a cura di QTSS VRA All Platzire. Caminon, minima... Grazie a tutti.